Allora, un progetto interessante che mette insieme una serie di realtà importanti, la Nazione Nazionale Magistrati, Questura, Prefettura, il Comune, tutti gli organi di controllo, l'Associazione di Categoria, la FIBA e ConfCommerce, cerca di mettere al centro un tema importante oggi, quello della sicurezza cittadina legata prevalentemente alla movita, che noi chiamiamo una movita selvaggia. La quindicesima commissione della NM educazione alla legalità, quest'anno per la prima volta ha siglato un protocollo d'intesa con una federazione, la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi per la promozione della cultura della legalità e dell'educazione alla legalità. Per noi di FIPE in Campania è stato importante svolgere un evento del genere sul nostro territorio, qui a Santa Maria, dare informazione sana all'utente di poter bere, ma con certi limiti e a certe condizioni. non avrete mai visto uscire la manezzeria, un'utriata risoluzionamente sul territorio di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.